Ma secondo voi un intestino pigro che non funziona bene, soffriamo di stitichezza, può essere causato d'ansia? Per cui se noi prendiamo un prodotto per l'ansia possiamo andare a regolarizzare anche un intestino pigro? Sì, in alcuni casi, perché l'ansia può essere somatizzata, in questo caso a livello gastrointestinale, perché se noi soffriamo ad esempio di ansia e mi prende lo stomaco, mi si blocca lo stomaco, oppure mi si blocca anche l'intestino, in questo caso un prodotto rilassante potrebbe andare al nostro caso. Ora vi faccio vedere due prodotti, uno è un lassativo, Buonerve della linea Biosline. Questo prodotto è fantastico se abbiamo un intestino che non funziona bene, può essere causato da vari fattori, però se il nostro intestino non funziona bene e significa che non siamo regolari nell'andare in bagno e per cui non ci andiamo ogni giorno, se noi andiamo già a giorni alterni vuol dire che il nostro intestino ha difficoltà ad andare. In questo caso magari servirà un altro prodotto come ad esempio può essere un magnesio, che allora mi va a rilassare la parete intestinale facilitando l'evacuazione. Il Buonerve invece va preso al bisogno e soprattutto se è da un paio di giorni che non riusciamo ad andare a livello intestinale, per cui questo ci va a regolarizzare solo nel caso di bisogno. Ci sono varie formulazioni, ha un'azione forte, contiene degli antrachinoni, gli antrachinoni sono di principi attivi che vanno ad irritare le pareti intestinali per favorire l'evacuazione, per cui vanno presi solo il bisogno, altrimenti risulta troppo irritante per il nostro intestino e rischiamo anche di diventare sensibili, anche se sono a base di piante. Ricordiamoci sempre che occorre il parere di una persona esperta. Se invece il nostro problema è uno stato d'ansia, dunque alterniamo magari stitichezza, diarrea, periodi più di stitichezza rispetto all'altra, l'intestino mi si blocca quando devo fare qualsiasi cosa a livello di routine quotidiana, magari diverso dal solito. Ecco che in questo caso il prodotto della Bioseline Ansistop potrebbe essere al nostro caso. Contiene l'elettianina, la magnolia, degli oli essenziali rilassanti a livello intestinale, ma non solo. Se noi abbiamo un'ansia generalizzata, ecco che l'ansistop ci può essere d'aiuto. Sono sempre in capsule da prendere durante la giornata e anche alla sera. Se prendiamo durante la giornata potete stare tranquilli che non ci dà sonolenza, ma ci va a rilassare sia la mente sia a livello del corpo e in questo caso magari anche a livello intestinale.